Rami che cadono sulle auto e radici che alzano pericolosamente la sede stradale. Inoltre le potature dei rami non vengono fatte da tantissimo tempo e se dovesse verificarsi una nevicata copiosa c'è la paura che qualche ramo possa far male a qualcuno. Le lamentele e le rimostranze della famiglia Subisatti sono rimaste lettera morta però. Ha scritto, telefonato, contattato un po' tutti, ma tutto è rimasto inalterato. Le piante non si possono abbattere perché non presentano segni di malattia, anzi gli hanno risposto dall'ufficio del comune che per il rischio di crescita di rami avventizi, popolarmente conosciuti come succhioni, potare certe piante non sempre la soluzione migliore. Allora meglio farli cadere, dice la signora, perché allora a 50 metri più in là, nella stessa strada, due piante uguali che facevano gli stessi danni sono state tolte? E quindi come sono state tolte nella via, che non erano malate come mi hanno fatto credere a me perché non è malata, quindi non si può togliere, invece là sì, ne hanno tolte tre, si seccano, cadono rami, quando c'è la tempesta, il vento, cadono questi rami e può succedere, vicino c'è la scuola Montessori e quindi può succedere anche... Quindi questa è una situazione che vorreste che il comune prendesse in carico? Sì, prendesse in carico il comune di abbatterli, perché non sono piante cipressini, pioppi cipressini, sarebbero bene togliere perché non sono adatte per le vie queste.